Ben trovati al Tg Sordi di Lecce 7. Resta ancora un mistero il movente che ha spinto il 21enne Antonio De Marco ad uccidere i suoi ex coinquilini Eleonora e Daniele. Il giovane in carcere potrebbe essere sottoposto ad una perizia psichiatrica. Intanto la madre ha inviato una lettera alle mamme delle vittime chiedendo perdono per quanto accaduto. Continua il trend in salita per i contagi da Covid-19 in Puglia. Importanti focolai sono stati individuati nelle province di Bari e Foggia mentre in provincia di Lecce il numero giornaliero di nuovi casi è più ridotto. In tutto i contagiati sono circa 140. Una nuova ordinanza emanata dalla Regione Puglia dispone l'obbligo di indossare la mascherina davanti a scuole e nei luoghi all'aperto. Per chi non rispetta la norma sono previste sanzioni. Antonio De Donno è il nuovo sindaco di Tricase il candidato appoggiato dal PD ha vinto il ballottaggio tutto interno al centro-sinistra contro Carmine Zocco appoggiato da tre liste civiche. Si intitola Contatto il nuovo singolo dei Negramaro che segna il ritorno della band Salentina a tre anni da Amore che torni. Il brano verrà lanciato in radio dal prossimo 9 ottobre e anticipa l'uscita del nuovo album che sarà pronto il 13 novembre. Prima vittoria in campionato per il Lecce che supera Lascoli per 2 a 0. Il successo è stato deciso nella ripresa anche grazie ai cambi di formazione operati da Mr. Corini. Prossima partita venerdì 16 ottobre contro il Brescia.